...musicali che sono state toccate la sua esperienza musicale fino ad oggi Ancona è stata inserita all'interno anche di questo suo percorso musicale e trovate in mente, sarà cantata anche in questo bellissimo giuro che lo porterà nuovamente, perché già hai toccato, sei se c'è la stina più rotte ma lo porterà a cantare anche dalla nostra città all'interno di tutti che si sono girati più spettacoli Noi vorremmo presentare tutto questo oggi, vorremmo presentare Giacomo Medici vorremmo presentare il progetto della lista Martino Sambio vorremmo presentare il tour sicuramente, quello dell'America Latina come ci ha portato questa vicinanza del suo percorso nell'ottica e nell'idea di, come dire, patrocinare dal punto di vista istituzionale questa importante esperienza artistica musicale che vede nuovamente dei giovani del nostro territorio arrivare, io lo dico perché conosco la loro musica ho sentito l'ultimo progetto a mio avviso ha delle punte, ha delle eccellenze musicali veramente significative sono tante le collaborazioni, è giusto che ne parleranno loro avute in questo periodo e che si avranno da adesso in avanti noi saluteremo Giacomo Medici e la lista Martina Sambio i 27 da ancora all'interno del palcoscenico della creata comunità interna ma già da oggi pensiamo che al ritorno di questo bellissimo progetto sarà giusto e doveroso rincontrare tutti i ragazzi in quello che sarà proprio un nuovo appuntamento musicale per il nostro territorio che sarà in grado e saprà farsi forza anche di tutte le nuove esperienze che potrete mettere in campo e potrete assaporare il suo tour in America io adesso lascio la parola a voi è giusto che siete in casa del progetto con la nostra storia indirizzando un nuovo appuntamento che è uscito a quello di attraverso questa storia è un po' di certo